segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te non mi sembra che ci sia nulla di nuovo sotto il sole voglio dire non è che putin quando diceva che in ucraina ci sono i satanisti che bisogna desatanizzarla fosse stato molto più blando no lavrov magari è la faccia appena più moderata ma altri membri dell'establishment russi hanno usato parole altrettanto pesanti e a me sembra che il punto nel discorso di putin sia l'annuncio che ci si prepara la russa si prepara entrare in un'economia di guerra questo è un passaggio estremamente significativo perché per prima cosa dimostra che con tutti i danni che può aver avuto sicuramente in parte ha avuto delle sanzioni però l'economia russo il sistema bancario russo hanno retto in più loro a differenza nostra un'economia di guerra se la possono permettere anche perché insomma hanno diciamo meno differenza nostra scuola credo che l'italia fa male a stare in scia degli stati uniti dovremmo avere una posizione differente no semplicemente che la l'economia di guerra la russia se la può permettere anche perché è un'opposizione interna diciamo un po diversa da da quelle che ci sono qui li ammazza di solito gli oppositori putin diciamo si beh adesso su questo possiamo anche discutere a lungo noi abbiamo i nostri modi di essere intolleranti lì ce ne sono sicuramente di peggiori dopo di che anche qui non è che ci sia grande trattamento di favore nei confronti dell'opposizione io quello che penso beh insomma abbiamo fatto un anno a ripeterci delle cose le stesse che ha detto biden ieri sono le stesse cose che si dicevano un anno fa da questo punto di vista non è cambiato nulla se non che la realtà ha fatto un po di irruzione sulla scena dimostrando che non è vero che la russia sarebbe implosa infatti non è implosa non è vero che la guerra mandando le armi sarebbe finita in breve tempo si sarebbe velocizzata la conclusione e infatti siamo ancora qui a combattere la prospettiva non è quella di risolvere un attimo perché poi sento anche bucini e caprarica ricordando onestamente insomma che le cose che successe in russia sono abnormi vi ricordo che c'è stata una grandissima giornalista straordinaria che è stata ammazzata e non solo a sangue freddo in ascensore certo per dire di cosa parliamo perché questo è molto importante io l'ho seguita l'ho studiata scritto cose straordinariamente coraggiose in tempi non sospetti c'è un ruolo della criminalità c'è un po semplice dire stato putin a ucciderla come se l'avesse uccisa lui con le sue mani lì c'è stato un ruolo della criminalità organizzata molto pesante se andiamo a vedere quali sono state allora guarda se tu leggi degli anni gli scritti della politosca ea diciamo che l'ha diventata la nemica pubblica numero uno però prendiamoci un momento su questo perché ho due inviati che mi chiedono la linea aspettate una